Se hai voglia di qualcosa di caldo, caldo, e non sai che cosa fare Se non trovi un posto dove andare al ristorante adesso sai che cosa bere Magia, magia, premi, premi, sul fondo, fondo Agita, agita, per 40 secondi, è caldo, caldo, è subito, subito Caffè caldo per te Caldo, caldo, il caffè che si scalda da sé Caldo, caldo, il bar in tasca